Ecco un altro che fa la caccia e pepe. Un po' d'olio, poi ci mette degli spaghetti dentro, bella botta di pepe così. Poi ci mettiamo un po' d'acqua, una mescolata, metti il pecorino qua mentre bolle. Che brutta che è venuta, il formaggio è rimasto tutto qui, tutti i granelli. Perché? Ve lo spiego fra poco. Siete pronti per l'ennesima caccia e pepe? Il pecorino, formaggio di pecora stagionato. Altra cosa, i formaggi grattugiati all'aria aperta ossidano, quindi tirateli fuori o grattugiati poco prima di utilizzarlo. Quali pepe utilizzare? Io sicuramente non utilizzo quello già macinato chissà da quanto tempo. Pepe in grani, macinato al momento. Ce ne sono tanti in commercio. A me non piacciono per la caccia e pepe, ad esempio quelli balsamici come il Sichuan, il verde. Questo che ho qui dentro è oro di Sarawak, molto profumato. Dove lo metto il pepe? Ho due chance. Nel formaggio messo in ultimo sarà la fragranza, quindi sarà più delicato. Nell'acqua che il pepe macinato reidrata e cuoce con la pasta, la insaporisce e sarà molto più caratterizzante e deciso. A me piace metterlo, macinato al momento, nel pecorino. Una cosa importante, se fai la caccia e pepe, il pepe c'è. Gli spaghetti sono in cottura e questo è uno dei pochi casi in cui la pasta la tolgo quasi a metà cottura. Allora, aggiungo abbondante acqua, alzo la fiamma e inizio a farla cuocere. Io direi che la sto ripassando. Sì, sto ripassando la pasta a metà cottura. Avete capito bene, non la sto risottando. Nella mia cucina non esiste la pasta risottata, esiste condita o ripassata o insaporita. Questa sta terminando la cottura in acqua. Perché? Perché l'amido è il primo amico della cacio e pepe. I formaggi stagionati hanno due amici o nemici, che sono l'amido, gli acidi e gli alcol. Qui non metto vino, sfrutto l'amido. Venite a vedere cosa è successo. L'acqua è passata dallo stato liquido allo stato denso. Grazie all'amido che la pasta ha perso, ho fatto una sorta di cremina. Guardate qui, questi sono canavacci, torcioni, bagnati e messi in congelatore. Siete pronti? L'obiettivo qual è? Quello di far freddare questa padella. Perché adesso sta oltre 100 gradi e se io metto il pecorino lì dentro diventa una mozzarella. La temperatura si eleva, il pecorino inizia a filare e facciamo una pasta filata. Il trucchetto qual è? Pasta sotto i 70 gradi. È buona da mangiare, non vi preoccupate. Venite, è il momento magico. In due minuti chiudo la cacio e pepe. L'acqua è quella lì, c'è un po' d'acqua, non c'è olio. Pecorino e pepe lo metto qui sopra. Ce lo metto perché lo voglio sentire. Adesso accendo, faccio bollire. Metti il coperchio. Poggio sui miei canavacci freddi e lascio così per un minuto. Non muore nessuno. Avete visto? Questa volta non ho portato in campo, in camera, i termometri e termometrine. Altrimenti mi dite che un cuoco ci mette troppo tempo. Il termometro l'avevo portato per voi per farvi percepire le temperature. Io lo so da solo quando è pronta. Quando metto la mano sotto e ci riesco a tenere, vuol dire che ci sono. L'acqua è rimasta. Il formaggio con il vapore che è venuto su è reidratato. E allora io ho vinto perché adesso faccio questo lavoro. La temperatura è molto bassa. Guardate un po', l'emulsione si sta creando. E adesso posso mettere, se mi piace, l'olio extravergine d'oliva. E questa volta la pasta viene saltata. Ma guardate qua. E andiamo. La padella è pulita. Avete capito com'è la storia? Partiamo dall'ABC, frutto dell'esperienza, dello studio, dei 35 anni di cucina. Da qui è normale che io farei 300 varianti gourmet. Fatele anche voi, secondo il vostro carattere e talento. Gamber e radicchio, cabernet, cabernet peperoncino, carciofi, pancetta. Divertitevi in cucina e mi raccomando sempre, liberi. Divertitevi in cucina.